Marco Rondini, lei ha detto che il Governo alimenta il bonismo a favore della tratta sui minori, perché? Noi riteniamo che queste mozioni che hanno presentato gli altri gruppi parlamentari che trovano la disponibilità ad essere accolte da parte del Governo, di fatto che dovrebbero andare nella direzione semplicemente di tutelare i diritti dei minori extracomunitari non accompagnati che arrivano sulle nostre coste, in realtà nascondano ben altri interessi, e cioè quello di facilitare di fatto l'immigrazione clandestina. Noi sappiamo che dall'inizio di gennaio di quest'anno ad oggi sono sbarcati sulle nostre coste circa 10.000 minori, di questi circa 5.000 erano minori non accompagnati. Tenete conto che però la maggior parte di questi presunti minori, perché poi ci si riferisce alle loro dichiarazioni, perché spesso, anzi sempre, sono privi di documenti, di fatto denunciano un'età fra i 16 e i 17 anni. Capite bene che conoscendo le regole probabilmente questi denunciano un'età inferiore rispetto a quella che potrebbero avere per cercare di bypassare la legislazione e le norme che ormai non vengono più applicate, che però dovevano servire per gestire il fenomeno immigratorio. Noi abbiamo presentato appunto una mozione di tutt'altro indirizzo rispetto a quelle presentate dagli altri gruppi parlamentari, perché riteniamo invece che il governo dovrebbe eventualmente, se vuole, gestire questo fenomeno, anche se a noi sembra che manchi assolutamente la volontà di farlo. Bene, innanzitutto chiedere l'intervento da parte dell'Europa per condividere i costi di questo fenomeno. Secondo, riattivare gli accordi bilaterali in maniera tale che si possano prevenire questi viaggi della speranza.